Andiamo a vedere che cosa vuole dirci poppy tra l'altro qua c'è un'altra missione che è quella del gioco delle palle esatto vittoria ed eccoci arrivati da poppy la mia Sweetheart ciao eccomi qua per fortuna stai bene anche tu sei bellissima come sempre Eccoti te ne sei andata tutta di corsa hanno assalito mia nonna qualcuno mi ha riconosciuta nella sala dello spinato e l'ha trovata in che senso sta bene per fortuna sta bene però sono andati a casa sua a casa nostra credevano che avessi inviato lì l'uovo Ah che bello Ha detto che hanno rivoltato tutto il posto per cercarlo gridavano che li abbiamo rovinati Andiamo a menarli allora Poppy mi dispiace meno male che sta bene non avremmo mai potuto prevederlo Avrei dovuto immaginarlo ho sottovalutato i bracconieri E' l'ora di fargliela pagare allora Pur di non andarsene a mani vuote i bracconieri hanno preso i preziosissimi diari che nonna ha scoperto quando studiava gli animali rari Uno di loro conteneva delle teorie sul nascondiglio segreto dei bolcini da tempo ritenuti estinti Ok questo è importante il bolcino sappiamo che cos'è Andiamo a vedere Non permetterai ai bracconieri di avvicinarsi ai bolcini Nonna vuole che ne resti fuori Ma è devastata l'idea che i bracconieri possano dare la caccia ai bolcini Che è una roba rara poi ovviamente Quando abbiamo salvato il drago avevamo il fattore sorpresa Ora invece i bracconieri ci staranno aspettando Che ci aspettino allora Qualcuno che odi i bracconieri al punto di aiutarci Che abbia a cuore gli animali come noi La professoressa Ah ottimo D'accordo Potrebbe essere ostile da aiutarci Parliamoci Esatto Eh lo so lo so Quando mai non lo è Sì tesoro D'accordo Insomma aspetta il gufo Questo vuol dire che dobbiamo andare con Amit Che si trova sulla torre di astronomia Sai che novità Posso dirlo con tutto il cuore Che la cosa più odiosa di questo gioco Fino ad ora è la mappa Dio mio quanto è odioso Muoversi anche solo per cliccare qualcosa sulla mappa Dio santo Eccoci qua Amit Ciao Eccoci qua Ciao Amit Se non ricordo male Tu parli il goblinese No Cioè No Non ricordi male Lo parlo Per caso ha a che fare con il goblin con cui parlavi a Hogsmeade Eh lo so Il suo nome è Lodgok Il tuo aiuto ci farebbe comodo Mi sta aspettando vicino a una miniera dei goblin Mi dai una mano? Ma certo Che emozione Voglio dire Potrebbe Essere pericoloso? Certo che lo potrà essere Credo voglio solo mostrarmi qualcosa che ha a che fare col goblinese Eh Ne dubito eh È un amico di Sirona Bene Buono a sapersi Se Sirona si fida di lui Mi sento più tranquillo Allora mi fido anche io Ah 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 Che bello Lodgok sta aspettando Andiamo? Certo Devo solo verificare la pronuncia di un paio di parole importantissime Quelle che potrebbero non farci ammazzare D'accordo Andiamo Quelle piccole parole che potrebbero determinare il nostro successo Come la nostra morte Eccoci qua Loggok Ti ho portato qualcuno che parla al goblinese amico mio Ho invitato un amico che parla goblinese Prima che arrivi forse puoi spiegarmi perché siamo qui Certo Sfortunatamente portare a Ranrok l'elmo di Urtkot Non ha sortito in lui l'effetto E questo me l'hai detto Sapendo come è stato trafugato Ha ipotizzato mi fossi fatto aiutare nel recupero da una strega o da un mago Ma non avevi scelta avresti dovuto aspettartelo In che altro modo pensava che un goblin potesse riprendere l'elmo A quanto pare non ha alcun interesse a farsi perdonare da te Purtroppo quando si tratta di Ranrok Nutrire aspettative razionali è un lusso Della serie Quando si parla di quello stronzo purtroppo è così Gradbarb fu un antenato di Ranrok Un maestro dei metalli Se dobbiamo lavorare assieme tanto vale dirti tutto quanto Beh si a questo punto Di recette Ranrok mi ha inviato a recuperare dei diari di Gradbarb scoperti da poco Ok In essi si parlava di depositi che un gruppo di maghi e streghe aveva chiesto a Gradbarb di costruire Che si intende con depositi? Grandi ricettacoli fatti di metallo goblin e rinforzati con la magia Ok Ranrok ha reclutato vari soggetti per aiutarmi a trovarli Casualmente maghi strano eh Dovevamo ispressionare il posto collegato ai cinque nomi citati nei diari Rackam, Fitzgerald, Bacar, Morganac e Rookwood Che sono i custodi? La nostra ricerca è iniziata da lì Ma perché a Ranrok interessano tanto questi depositi? Per quello che hanno al loro interno Per secoli streghe e maghi non hanno condiviso le loro conoscenze con i goblin Che novità Siete già potenti così Non avete bisogno di altro Non avevano bisogno di altro Ranrok era convinto che i depositi contenessero un potere che la stirpe magica voleva tenere per sé Beh non era totalmente lontana Era o meglio è determinato a reclamarlo per i goblin Ma Ciao Amit Buongiorno è notte Parli goblinese? Oh bagalio Basta così Ti prego non dirmi che stavi tentando di parlare in goblinese Beh sì forse la mia pronuncia non è perfetta Immagino che alcuni dialetti differiscano da No no fai schifo ragazzo vai via per favore Dio mio eh vabbè oh Sì signor Lodcock Niente signore Fortunatamente basterà che siate in grado di decifrare dei progetti Visto che io non potrò venire con voi Ok Quali progetti? E perché tu non puoi venire con noi? Dobbiamo scoprire cosa sta tramando Ranrok Un seguace distratto potrebbe aver dimenticato dei progetti nella miniera E io non posso venire con voi Perché c'è il rischio che qualcuno mi veda e lo riferisca a Ranrok Esatto La cosa importante è che nessuno vi veda Né l'occhio sulla porta incantata Né qualche seguace rimasto nei paraggi Ok disillusione allora Cos'altro dobbiamo sapere sulla porta incantata? Fino a quando l'occhio potrà vedervi La porta non si aprirà Per entrare dovete rendervi invisibili Da quel che so di voi maghi La cosa non dovrebbe essere troppo complicata D'accordo andiamo Io e Amit possiamo farcela Aspetterò il vostro ritorno Ci vediamo presto A dopo D'accordo mettiamo già l'invisibilità Credo di averla già visitata questa parte della miniera Però La porta ci guarda Mi sembra che forse era aperta l'altra volta D'accordo Posso muovermi senza fare alcun rumore Zitto Ok diventiamo invisibili e Andiamo ad aprire la porta Mi sembra di sentire qualcuno ma non lo vedo Mi stanno aprendo Aiuto Purella I libri raramente ci preparano alla realtà dei fatti Ebbè Ecco una vera miniera goblin È ancora più grandiosa di quello che credevo Oh siamo solo all'entrata fra Comunque speriamo che Amit non sia un cazzone che abbia detto Sì so leggerlo il goblinese guardami Non riesco a credere di aver incontrato un goblin Eh la madonna Scopriamo il possibile e andiamocene da qui Che emozione Incendio Eh lo so Davvero Però davvero Non voglio essere ripetitivo Però che cazzo Sembra davvero tutto Skyrim Quando vai Nelle caverne dei nani Mamma mia Come di certo saprai ci sono goblin molto meno amici Oh ma è ancora Oh la madonna Vai C'è ancora qualcuno? Forse esagerato Vedrai Eh lo sappiamo Fratem Vediamo solo una cosa Allora Questo non è attivo Probabilmente c'è qualcos'altro da attivare anche dall'altro lato Apriamo la porta Ecco fatto Molto probabilmente c'è qualcosa da attivare da questa parte Esatto Ad esempio Tac Vediamo se è partito Perfetto La pressione è più alta ora E ora dovrebbe essere partita anche dall'altro lato Il che In teoria Esatto Mi ha aperto questa strada Questa strada Che credo di dover bombardare Con fringo Hai visto che bravo Amit Così si lavora E infatti Troveremo un bel No stavo per dire un bel gruzzoletto ma Il massimo che trovo è un vestito Che però potrò vendere per altri soldi Mi sento uno di quei personaggi Dei libri di avventura Che mi piace leggere Amit se posso non ti porto più in giro Te lo prometto Diamo un'occhiata Amit Potrebbero esserci dei progetti qui in giro I nemici però sono sopra Aspetta un attimo Ci saranno dei progetti qui in giro da qualche parte Amit l'ho appena detto io Allora Prima ci occupiamo Di questa gente Vediamo se posso anche solo Pietro e fictusarla Non credo eh Ma forse si aspetta Perfetto Che bello che non se ne accorge neanche te Che bello La gente viene per i pietri fictusata Quel dito nel naso Bello convinto lui Ah guarda un po' È molto affascinante Vedere il goblinese Scritto direttamente da Odgok Lo stile calligrafico È straordinario Fammi sapere se trovi degli appunti O degli schemi Eh esatto Non possiamo tornare Da Odgok mani vuote Quindi non ci è servito a niente Quello Io continuo a ripeterlo Mi dispiace per Odgok Ma Ho il brutto presentimento Che questa sia una trappola E che Lui arriverà con Runrock Per dire Guardali qui Ti ho portato dei Stupidi maghi Uno schema Stanno costruendo qualcosa Non riesco a capire cosa sia Che strano Devo riuscire a capire Cosa stanno costruendo Qui sotto Ma nel senso Che non riesci a leggerlo O nel senso Che è scritto in un modo Talmente strano Che non riesci a leggerlo Bella quella Ti dirò che è una alabarda Ma non ne sono sicuro Però è bella Va bene Proseguiamo Visto che non abbiamo trovato nulla Altra gente No C'è solo un martello Eccola lì L'altra gente Meglio non farsi vedere Esatto Se sto traducendo correttamente E così credo Stanno costruendo Io non credo Ma cosa Devono esserci degli appunti in giro Cosa staranno costruendo Amit Io capisco Che tu ci stai provando Però non mi sembri Così affidabile Come volevi far credere Mi sa Vabbè Proseguiamo intanto Proviamo A evitare i combattimenti Per il momento Proviamo a vedere Non credo Eh però Ok Questo l'abbiamo eliminato Proviamo a eliminare Anche questo Ce ne sono tre Uno è lì Uno è là sopra Che credo proprio Che dovremmo lasciare Per ultimo Ed infine Speriamo Che non arrivi Nessun altro Eh sì Quello lì Non riuscirò mai A prenderlo Mi sa Però Vediamo se riesco Esatto A imperiarlo Dalla distanza Morto Morto Ecco fatto No Ne è arrivato Un altro No Che fai C'è uno Ecco fatto No Sali su Ecco qua Addio quello con la balestra E Addio all'ultimo Ami Eh esatto Che ti lamenti Ok devo aspettare Sì Ecco fatto Quindi ora si apre Quel portone Io intanto Do un'occhiata In giro Dunque Là sopra C'è una grata Proviamo Ma non credo Che questa sia La strada giusta No Di qua si prosegue Quindi allora Prima proviamo Con questo Un altro schema Cosa staranno mai costruendo Ancora Amit Sei inutile Che cazzo Di qualsiasi cosa Si tratti Come facciamo Ad arrivare Qua sopra Ci sono le scale Il modo più semplice È sempre quello Più funzionale Bombardiamo questo Ecco qua E Vediamo Che cosa Nasconde il forziere Indumenti da viaggio Grigi E Ah Che bello Il mio brutto presentimento Non mi lascia Continuo a pensare Che Il goblin Per quanto buono che sia Proverà a fregarci E Mi dispiace Perché magari È solo pregiudizio Il mio Zitto Lo so già come fare Lumos Ecco appunto Ma va È solo un tranello Del diavolo Che vuoi che sia Mi sa che facciamo Prima combatterli Direttamente Che cerca Di Immobilizzarli Però Questo non vuol dire Che non dobbiamo provarci Come no Chi è Eh che succede Hanno pietrificato Il tuo compagno Allora Shhh Non facciamoci sentire Ne tantomeno vedere Ecco fatto Vieni qui Vieni vieni Non andare via Fermoli Preso Ne manca solo uno Aspetta No Ne mancano due Scherzavo Forse non ci vede E anche se ci vede Troppo tardi per noi Colpito Eh quanti vuoi che ci saranno Anche ne fossero arrivati altri Amite Che vuoi che sia Ok dobbiamo diventare Di nuovo invisibili Ma Devo vedere Se C'è qualcosa Da attivare Non mi sembra Il che vuol dire Che per attivare Questa leva Dobbiamo attivare Il fuoco Dall'altra parte Prima diventiamo Esatto Invisibili Passiamo la porta Ecco qua Stata clunch Ok di qua si prosegue Quindi Incentivo Uno Due Questa cosa attiva L'ascensore Credo Questo ascensore Ci serve adesso Ci servirà dopo Non lo so Proviamo Ah Dicevo Amite È rimasto giù Forse ci porta solo Al forziere O è Uno shortcut Per tornare indietro Non ho ancora trovato Tutti i progetti Meglio continuare A cercare Sì Credo che sia Per tornare indietro Dopo Ok Ok In teoria Dovremmo essere arrivati Sì Questo è l'ultimo progetto Però aspetta Wow Un cilindro Che bello Sì Sì Adesso appare qualcuno Ah Strano Ho bisogno Di un attimo Per riprendere Piano Non ero pronto Aiuto Ora che sappiamo Che intenzioni hanno Possiamo andarcene Perché non potevamo Interpretare noi Un disegno No 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 Avevamo bisogno Di Amite È stato utilissimo Guarda Mi spiace Non aver avuto fiducia In te Amite Ok Quindi Esatto Questa era la via Di ritorno Quanto ci fai Che appena usciamo C'è qualcuno Oh magari Continuo a sbagliarmi Io Magari sono Malpensante Per davvero Però che cacchio Sta sensazione Che ci stanno Cercando di fregare Me la levi Difficilmente Ed eccoci qua Amite Dai puoi tornare Guardare le stelle Forza Certo guarda Ti faccio da psicologo Subito Fammi prendere Sti funghetti Va Eccoci Dai parliamo Sì 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 Non è andata Così male Vero Stai scherzando È stato terribile Per oggi ho chiuso Con le avventure O forse per sempre Vai vai Guardare le stelle Non ce l'avrei mai fatta Senza di te Ora Se non ti dispiace Vorrei scambiare Due parole Con Lodgok Certamente Vi lascio soli Addio Lodgok Non ti dimenticherò Tanto presto I segreti dei Goblin Sono al sicuro con me Però un giorno Scriverò un libro Su questa avventura Fai pure Passami i diritti Ma fai pure Adio Ciao E poi la gente Parla male Di Ron Weasley Stanno costruendo Delle trivelle in ordine Eh già Abbiamo scoperto I loro piani Sicuramente Runrock Sta cercando i depositi Temo tu abbia ragione Però a parte Il castello di Rookwood Non so in che altro posto Voglia cercare Pensavo Un'altra cosa Che hai detto Prima che entrassimo Nella miniera Sentiamo Se condividi Le idee di Runrock Perché mi aiuti Perché non gli piacciono i modi Credevo di trovare Il castello di Rookwood Deserto Invece al suo interno Incontrai Una strega Che vi aveva allestito Una specie di campo Di ricerca Era Così presa Dai suoi studi Che quasi Non si accorse Del mio arrivo Quando mi vide Pensai Che avrebbe provato Paura O disprezzo Invece fece Fece qualcosa Che non scorderò mai Ti salutò? Senza alcuna esitazione Mi sorrise E mi chiese Di sedere con lei Ottimo Mi disse Di essere Una Ricercatrice E mi mostrò Un bizzarro contenitore Con uno strano simbolo Questo simbolo? Pensava Che fosse in Metallogoblin Non riusciva Ad aprirlo Voleva Che collaborassi Guarda quanti FPS Va quel mulino Sì Ma Ma come la La moglie del professore Mi ha parlato Delle sue ricerche E so Del contenitore La riverenza Con cui mi parlò Dei goblin Della loro intelligenza E delle loro abilità Mamma mia Mi colse Di sorpresa Mai Alcun mago O strega Mi aveva trattato Con così tanto rispetto Fu così Che le permisi Di studiare Il contenitore A patto di poter Ispezionare Il castello Da solo E tu hai fatto Quando ci salutammo Promese di riferirmi Le sue scoperte E invece no Giunsero altri Seguaci di Runrock E iniziamo a scavare Fino a che Non trovammo Il primo deposito Ok Runrock Gioì per la scoperta Ma si infuriò Appena gli dissi Di Miriam Mi maledì Per essermi fidato Di una strega Pensa che bel simpaticone Che stai aiutando Pensi che l'abbia uccisa Runrock Penso proprio di sì Non voglio crederci Ma Non lo so Purtroppo Te lo dico io Una specie di aura nera Vero? Nera e rossa Non potevo continuare A esserne parte Hai fatto benissimo Di avermelo detto Ti sto dicendo questo Per farti capire La posta è in gioco Runrock Non ha tutti i diari Di Gradbarb Vuol dire che ci sono altri In giro E il che vuol dire Che dobbiamo recuperarli Forse E a un certo punto Gradbarb Costruì un deposito Molto più grande Di quello sotto Il castello di Rookwood Ok Quello che hai scoperto Oggi mi preoccupa E molto Se Runrock Scoprisse la posizione Di quel deposito Temo che dovremmo Affrontare Una guerra Feroce Io penso che la guerra L'affronteremo Sì Ma da soli Scoprirò cosa sa Runrock Al momento Attendi il mio gufo Attendo Mi sembra molto Preoccupato lui Comunque Il fatto di aver scoperto Chi era quella donna Mi sa che ha proprio L'ha L'ha sconvolto Chi non parla Goblinese A quanto pare Amit Oh Il potenziamento Della scopa Che bello Sì 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 Per favore